Scusi, posso chiederti a te una... Facciamo che sono io forte. Scusi, posso chiederti a te una... Emma, posso chiederti a te una... Scusi, posso chiederti a te una... Scusi, posso chiederti a te una... Scusi, posso chiederti a te una... Scusi... 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 Grazie. 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 Sono qua? Dai. Ci chiamo. Oh. Diciamo che quello di Donati sono già le più indisciplinate, però va bene. Allora, questa sera abbiamo come calcio balilla misto... Chi sono le squadre che devono giocare? Quattro. Quattro. Ok. Ok, perfetto, perfetto. Mentre per pallavolo femminile abbiamo Lonate, un po' di tifo, insomma, un po' di... eh, che cavolo. Perfetto. E Abbiate. Non ci sono i supporter, non sento i supporter. Allora, Locate mi hanno detto che questa sera non c'è perché... non so perché non ha... non ha le atlete, quindi in realtà la seconda partita non si farà, si farà solo la prima partita Lonate e Abbiate. E ci sono anche quelli del calcio che devono giocare? Ok, perfetto. Quindi vedo la squadra di Lonate, la squadra di Abbiate. Un applauso anche per i giocatori di calcio. Allora, per il calcio adesso si affronteranno Lonate e Abbiate, poi chi perde giocherà contro Locate, quindi è una sorta di torneo a tre. Penso che loro possono raggiungere il campo di là, no? Quindi voi andate, vi salutiamo, ci vediamo a fine serata. E noi possiamo iniziare, quindi pregherei, diciamo, le squadre di pallavolo di prendere posto sul campo e chi deve giocare a calcio balliola mista di prendere posto sul campo. Tanto è pronto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. È già partita. Ti mettono già con la froncia e non puoi entrare, basta. Devi stare fuori. Avete vinto il bagno. Andiamo a festeggiare. Grazie. 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 Forse di là che il pubblico lo vede. Grazie per il pubblico, eh. Oh, Giorgia. Facciamo così tutti in giro. Che si fa? E dopo mette la maniera di caviarmi. Ahahahah. Con la telecamera. Sì. 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 Grazie a tutti. Oh, perfetto. Grazie. 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 15 a 7. 15 a 7. Che accetetano. Momento oggi. Dopo entro midreno. Appallcompagnanamente. Calcio. Compl piece insomma. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.